buongiorno oggi volevo parlare di un libro un libro appena uscito è un manuale di macro fotografia e fotografia a distanza ravvicinata scritto da alberto ghizzi panizza che probabilmente molti conosceranno per chi non lo conoscesse insomma è un fotografo che ha ricevuto molto in gamba che ha ricevuto riconoscimenti a livello globale è docente della nikon school e anche brand ambassador per diversi marchi fotografici in particolare ai fini diciamo di proprio specifici di questo libro di alcune cose che diremo dopo è anche brand ambassador di laowa il produttore di lenti lenti particolari produttore che negli ultimi anni si è fatto particolarmente notare perché sia sul fronte dei grandi angolari sia sul fronte dei macro sia sul fronte dei grandi angolari e macro ha veramente prodotto dei degli obiettivi molto molto interessanti e originali va bene ma perché parlarvi di questo libro al di là della mia passione per la macro fotografia al di là che reputa appunto ghizzi panizza un fotografo veramente bravo ma c'è anche un'altra ragione questo manuale uscito in questi giorni ed è importante perché fa un po il punto della situazione un punto della situazione veramente aggiornato di per quel che riguarda sia a livello tecnico e tecnologico le tecniche e le attrezzature che ruotano intorno alla macro fotografia ma anche fa un punto della situazione sul livello della qualità di immagine che è stato raggiunto ma anche l'estetica dell'immagine macro come dove siamo arrivati oggi come viene intesa oggi soprattutto per un certo tipo di filone che è quello un filone creativo un filone artistico ma andiamo per gradi allora la macro fotografia è forse uno dei generi fotografici che necessita di più competenze tecniche ma anche di attrezzatura molto specialistica o quantomeno più specialistica rispetto ad altri generi inoltre è anche un genere che è sempre stato considerato un genere un po di nicchia un genere da studiosi diciamo quindi qua a me è capitato spesso di parlare con persone di macro fotografia e chi non pratica macro soprattutto in passato spesso la snobbava un po come un genere asettico un genere appunto per documentare un genere per prestudiare un dei fenomeni per studiare degli esseri viventi però si fermava lì insomma rimaneva appunto un affare da tecnici la macro fotografia soprattutto oggi non è più questo però questo questo retaggio questo questo legame con un'estetica questa percezione che sia ancora legata a come si faceva macro fotografia più di 20 anni fa per anni è rimasto e c'è stata anche una certa resistenza ho visto anche con il passaggio al digitale c'è stata soprattutto all'inizio sempre una certa resistenza nello spingersi anche verso una macro più creativa una macro più artistica cosa che al momento non è più così appunto è questo manuale le foto presentate in questo manuale parlano proprio di questo si sono immagini molto forti sono immagini veramente interessanti ma immagini soprattutto quelle che hanno che prendono la direzione più creativa la maggior parte sono immagini che raccontano la macro fotografia in modo completamente diverso nell'all'interno del video parlerò di macro fotografia in generale però mi riferisco anche di mi riferisco anche alla fotografia a distanza ravvicinata per fotografia a distanza ravvicinata si intende più o meno quella che si avvicina molto al rapporto uno a uno e dopo di che poi passando oltre l'uno a uno potrebbe essere intesa la macro fotografia vera e propria oltre all'uno a uno cioè la rappresentazione dimensioni reali del soggetto e comincia a parlare di ultra macro poi andando avanti si parla di micro fotografia quindi comunque parlerò di macro fotografia non mi riferirò principalmente mi riferirò intenderò anche in maniera un pochino più morbida anche la fotografia a distanza ravvicinata in questo video e dicevo genere macro è un genere particolarmente tecnico che richiede un'attrezzatura specialistica o meglio anche un'attrezzatura specialistica però anche quando si usano accessori si va in una direzione molto precisa insomma e il legame però fra attrezzatura ed estetica in qualche modo ha condizionato soprattutto quest'ultima il modo di fare macro è stato condizionato dal l'estetica il modo di rappresentare anche soggetti è stato anche condizionato non solo da motivazioni funzionali come dicevo prima funzionale per dire alla documentazione ma anche perché mancavano proprio delle attrezzature per poter liberare emancipare in qualche modo la fotografia da questo ambito più ristretto più da laboratorio se vogliamo in un certo senso io ho iniziato a fare macro fotografie a interessarmi alla macro fotografia quando ancora scattavo su pellicola e devo dire che ricordo bene le problematiche che c'erano scattando su pellicola quando non potendo verificare subito per dire l'esposizione era non era semplice calcolare e compensare a seconda degli accessori usati a mano a mano che si cambiava il rapporto di ingrandimento anche l'esposizione finale che doveva avere un'immagine così come non era semplice gestire le luci artificiali il peso che avrebbero avuto nell'esposizione finale se si utilizzava più di una luce poi diventava ancora più complicato comunque gestire l'esposizione in generale prevedere quale sarebbe stata in determinate condizioni soprattutto ingrandimenti più forti l'esposizione corretta non era semplice come non era semplice gestire la profondità di campo in verità in pellicola che non si usavano tecniche come focus stacking soprattutto parlo della fotografia non rielaborata al computer scatto in pellicola sviluppato non post prodotto quindi avere una buona profondità di campo era difficilissimo c'erano degli accorgimenti cercare di disporre le parti importanti per lo meno di un soggetto sullo stesso però avere una buona profondità di campo anche chiudendo molto il diaframma spesso a forti ingrandimenti in profondità di campo non bastava mai dall'altra parte poi chiudere molto il diaframma voleva dire incorrere negli effetti negativi della diffrazione e questo era un'altra problematica che non si riusciva a superare era molto difficile nel mirino ottico mettere a fuoco con precisione non parliamo poi quando si andava nell'ambito verso l'ultramacro quindi dopo un rapporto di riproduzione maggiore di uno a uno era molto difficile avere risultati soddisfacenti con il digitale le cose sono veramente cambiate perché si potevano intanto avere già un'anteprima dello scatto c'era la possibilità di mettere a fuoco con il live view soprattutto con le mirrorless quindi da un punto di vista tecnologico i passi avanti erano stati fatti le tecniche si potevano applicare erano molto maggiori anche grazie alla post produzione però siamo in una fase quella del primo digitale in cui l'estetica cambia si inizia a avere più libertà però dall'altra parte è come se la vecchia estetica ancora pesasse molto se ancora la macro fotografia non si fosse emancipata da un retaggio più classico arriviamo però agli anni più recenti quantomeno negli anni più recenti cosa è successo? intanto che è diventato più accessibile fare macro fotografia perché proprio l'attrezzatura sia a livello di obiettivi che di illuminatori ma anche di apparecchi di accessori sono diventati più accessibili e sono diventati in numero molto maggiore un'importante evoluzione tecnologica ha permesso anche un'importante trasformazione estetica perché era inutile in passato cioè no era inutile in passato si potevano avere anche delle idee magari per realizzare determinati scatti però poi mancava la possibilità proprio materiale di riuscire a realizzarli era talmente complicato soprattutto magari poi scattando all'esterno costruire certi set, costruire certe situazioni per cui di fatto c'era un po' una situazione di stallo andando nello specifico a parlare del libro come ho detto le immagini sono immagini veramente potenti sono immagini veramente significative e di livello altissimo nel libro queste immagini vengono utilizzate sia per spiegare i concetti di base come l'introduzione proprio alla macrofotografia ma anche poi vengono usate per esemplificare una tecnica o un tipo di attrezzatura che viene utilizzata per creare quelle immagini tra l'altro per molte immagini sono presenti le foto di backstage quindi non solo si vede la foto, non solo viene spiegata la tecnica e l'attrezzatura usata ma viene mostrato anche il set su come è stato creato che è molto importante soprattutto se non siamo molto esperti del genere ci stiamo avvicinando per quanto riguarda il pubblico il libro è adatto a qualunque tipo di pubblico diciamo che per chi è completamente digiuno di macrofotografia potrebbe avere necessità di cercare altre informazioni per approfondire alcuni passaggi anche perché gli argomenti trattati sono veramente tanti a un certo punto è stata fatta una cernita su quale livello di approfondimento raggiungere non per tutti gli argomenti il livello poteva essere riportato a un livello proprio di base perché se no il libro sarebbe, non so quante pagine sarebbe venuto sarebbe diventata un'opera immensa, ingestibile forse anche proprio a livello di materiale, di manuale però non solo si trovano in rete diverse informazioni ma vi consiglio anche, vi linkerò nella descrizione del video un articolo che ho scritto sul blog come introduzione a macrofotografia all'interno dell'articolo trovate uno scritto in pdf scaricabile gratuitamente creato da Riccardo Polini Riccardo Polini è un fotografo, è un docente dell'Università di Roma di Tolbergata ma è anche un bravissimo fotografo e ha diffuso, insomma, ha creato questo pdf in cui troverete spiegate nel dettaglio formule e alcune basi tecniche oltre che a tecniche più avanzate possono essere una lettura molto utile se siete proprio appunto agli inizi per capire meglio poi le tecniche spiegate invece nel manuale di cui sto parlando poi, questo per quanto riguarda chi è proprio digiuno per chi ha più esperienza vi posso anticipare vi posso dire che probabilmente anche coloro che hanno più esperienza troveranno qualcosa che magari qualche tecnica che non conoscono qualche consiglio utile per me per esempio è stato io conobbi la tecnica veni a conoscenza della tecnica del rifocusing in un'intervista fatta da Ghizzi Panizza alla rivista Fotografare e di questa tecnica si parla anche in questo libro poi consideriamo sempre che una persona che pratica che dedica molto tempo a questo genere fotografico che la pratica ad alto livello tra le righe sicuramente darà dei consigli delle soluzioni che ha trovato lavorando sul campo e a cui magari non si è pensato quindi è molto probabile troverete anche anche chi è più esperto troverà qualche consiglio utile per migliorare insomma i propri scatti come il manuale è impostato in maniera empirica quindi le formule sono veramente poche non arrivano credo a contare una mano avanza per contarle le formule sono veramente poche questo probabilmente è dovuto anche al fatto che da quando si scatta in digitale la possibilità di vedere subito certi risultati a volte rende più veloce fare un test pratico anche sul campo che calcolare in anticipo come invece eravamo obbligati a fare con la pellicola in ogni caso il manuale è molto empirico la trattazione e anche questo è un motivo per cui è più facile anche è più fruibile anche da chi ha meno esperienza e quello che anticipava all'inizio il manuale presenta un po' lo stato dell'arte anche a livello di tecniche e tecnologie presenti considerate che quando è stato scritto Gizzi Panizza in quanto ambassador di Laowa aveva in prova un kit per la microfotografia che al tempo non era in vendita è un kit che permette di raggiungere anche ingrandimenti di 50x come massimo è un kit che poi è stato messo in vendita però ci sono alcune foto nel manuale scattate con questo kit questo per dirvi proprio che è veramente aggiornato per questo secondo me è anche molto importante questo testo non solo per la qualità dell'immagine ma perché è veramente veramente aggiornato e avere una panoramica di ciò a cui si può accedere ora per fare macrofotografia ci permette sia di gestire di capire meglio quanto possiamo spendere vengono proposte diverse alternative quindi non per forza se facciamo soprattutto macro occasionalmente o ci vogliamo avvicinare in maniera graduale non dobbiamo per forza spendere un capitale ma ci vengono proposte diverse soluzioni alternative adatte a io direi a tutte le tasche insomma e quindi questo rende molto più accessibile dall'altra parte in parallelo oltre a tutte le innovazioni tecnologiche viene mostrato un approccio al soggetto un approccio all'ambiente un approccio alla composizione però tutto questo viene fatto alla luce delle più recenti tendenze anche appunto estetiche e anche di rappresentazione dei soggetti ma anche proprio a livello di qualità perché apparecchiature recenti permettono di arrivare a un certo livello di qualità d'immagine che poi ha impostato uno standard quindi capire come riuscire a raggiungere certi standard o avvicinarsi è importante per farlo è importante avere una pubblicazione è importante anche consultare pubblicazioni recenti a questo punto aggiornate quindi per questo questo macrofotografia strumenti e tecniche per catturare i dettagli del mondo è una lettura che vi consiglio veramente va bene spero che questo contenuto sia stato di vostro gradimento se siete amanti della macrofotografia o siete incuriositi a macrofotografia sicuramente lo sarà ma anche se volete vedere delle immagini straordinarie di questo genere anche se poi non siete interessati a praticarlo noi ci vediamo al prossimo video ciao